Tre operatori sanitari in servizio presso il reparto di cardiologia di Sant'Agata Militello sono risultati positivi al Covid-19. La notizia è arrivata questa mattina e ha portato subito alla chiusura del reparto. Si tratta di due infermieri e un OS residenti nell'Interland che avevano eseguito il tampone nei giorni scorsi dopo che un familiare era il risultato positivo. Sottoposta a tampone tutto il personale del reparto di cardiologia del nosocomio sant'Agatese le cui attività sono state adesso sospese.